Noel Gallagher News, il primo album da solista, arriverà forse a settembre. Ogni tanto torniamo a parlare di lui, Noel Gallagher. Negli ultimi mesi ha fatto tanto rumore la storia del suo presunto album da solista. Noel, infatti, ha sempre dichiarato di non essere impegnato con le registrazioni del disco, mentre si susseguivano le voci che volevano invece l'album addirittura quasi pronto. Tra questi vi era anche Liam Gallagher, fratello nemico di Noel, leader dei BDI. Liam in più occasioni ha dichiarato di essere sicuro che il fratello fosse impegnato con le registrazioni del suo primo album da solista. Liam ha anche aggiunto che anche alcuni membri di BDI hanno collaborato per le registrazioni per il disco di Noel. Noel ha sempre smentito il tutto, ma poi iniziano a spuntare le voci dei vicini di sala di registrazione, che iniziano a dichiarare alla stampa e a far circolare sul web di aver sentito Noel Gallagher mentre registrava. Ecco, il primo disco da solista di Noel stava per diventare un vero e proprio caso, Fortunatamente l'ex Oasis qualche settimana fa ha confermato tutte queste voci, specificando di trovarsi ancora in sala di registrazione, dove si sarebbe trattenuto per almeno un altro mese, con lo scopo di verificare se vengono fuori buone registrazioni. Ovviamente sul web impazzano le notizie che riguardano questa storia. Su Twitter è spuntato un account registrato sotto il nome di Noel G.D. Gallagher, che sembra essere il Twitter ufficiale di Noel, visto che addirittura comunica la data del primo singolo. Secondo quindi le indiscrezioni rese note su Twitter, il lancio del singolo è previsto il 22 agosto 2011, mentre il primo disco da solista di Noel Gallagher dovrebbe essere pubblicato il prossimo 12 settembre. Invece un altro sito di informazione musicale tira fuori quelle che dovrebbe essere addirittura la tracklist del disco. Stiamo a vedere cosa succederà. Intanto, date uno sguardo a questa presunta tracklist. Grazie a tutti.